Panarecord presenta Videomatto Videomatto Le più esilaranti avventure della Pantera Rosa Le indimenticabili storie di Tom e Jerry Le incredibili vicende di Banni il Coniglio Di Duffy che sono io Di Pallino, di Braccio di Ferro e di tanti altri eroi Nella fiumata collana con video del mondo Ogni cassetta a sole di 9.900 lire Videomatto I grandi del cartoon in videocassetta È una proposta Panarecord Di Pallino, di Pallino, di Pallino